Garanzie sui prestiti alle aziende alle prese con l'emergenza economica scaturita da quella sanitaria con una liquidità immediata di 400 miliardi di euro, ma anche sospensione dei termini per chi è in debito con il fisco ed estensione del Golden Power. Queste alcune delle misure previste dal secondo decreto economico, il più atteso dalle tante aziende ferme a causa del blocco. È necessario e direi indifferibile perché siamo di fronte a una sofferenza veramente di tutto il comparto produttivo e di tutte le imprese che è veramente epocale. È un qualcosa che rischia di distruggere tanti anni di lavoro, tanti anni di sacrifici per tantissime persone, per tantissime aziende. Il pacchetto liquidità prevede dunque 400 miliardi in più rispetto ai 350 già previsti nel decreto Cura Italia. Il fatto che ci sia comunque la possibilità di accesso al credito per le piccole imprese per non montare fino ai 25 mila euro senza ulteriori complicazioni e quindi non guardando l'andamentale, non guardando il merito creditizio o altro, sicuramente questo permetterà tantissime imprese artigiane di poter fruire chiaramente di un aiuto importante in questo momento. Per le imprese più strutturate abbiamo visto che ci sono dei paletti fino agli 800 mila euro che verranno garantiti al 90% dallo Stato e al 10% dai confidi e per investimenti superiori oltre i 5 milioni sarà anche questo garantito al 90% comunque dallo Stato. Adesso è da capire tecnicamente come riuscire a tradurre in pratica quello che ad oggi ancora è sulla carta. Da un lato dunque una boccata d'ossigeno alle imprese iniettando liquidità nelle loro casse, dall'alto prosegue la sospensione di alcuni adeppimenti fiscali seppur con molti distingo e parecchi limiti. Si parla delle sospensioni per le aziende che fino a fine marzo hanno perso il 33% del fatturato e per le aziende di più grande dimensione che sono arrivate a perdere il 50% del fatturato. Ora, tenendo conto che questa pandemia ha cominciato a dare i primi risultati veramente incidenti verso la fine di febbraio, metà febbraio, fine febbraio, significa aver perso il fatturato in un mese e dieci giorni. Sono convinto che se quel termine era spostato al 30 di aprile quasi tutte le imprese avrebbero già potuto fruire di quel servizio. Non ho idea di quante, magari per il 2 o il 3%, non rientreranno in quel provvedimento.